Buongiorno, sono Felice Nasta, direttore sportivo della scuola calcio Regale 2002 a Fronzo Camorale. Stamattina partono i campionati di giovanissimi regionali e i 99 sono impegnati nella trasferta con la Juve Domizia. Mentre qua al centro nostro di Regale, Mario Acconcia, dove ci sono campi di calcetto, calciotti sintetici e coperto della campostruttura, siamo organizzati varie partite amichevole, con il 2001 che sono impegnati, una bella amichevole da Mariano Keller, mentre il 2003, il 2005, il 2007, il 2008 con la Madonna. Noi qua ogni mattina, in un'altra volta che i campionati iniziano, tra qualche domenica tutti i campionati, organizziamo sempre partite amichevole. Sabato e domenica i campionati, la sera, tutti i pomeriggi a partire, ma la segreteria è sempre aperta? Sono sempre aperta, infatti comunque abbiamo superato abbondantemente la soglia di 200 iscritti, quindi è già stato un primo traquattro raggiunto. Quindi l'obiettivo di questa scuola calcio, Alfonso Camorani, è un nome e una garanzia, l'ha detto più volte, non si può fallire. Allora non si può fallire, noi abbiamo già attenuto tanti risultati, ma quest'anno con l'entrata di Pietro Pontilli a Alfonso Camorani, quindi in società, vogliamo aumentare ancora i nostri risultati e sicuramente lo facciamo. Infatti proprio stamattina, come ho guardato sulla tribuna, sono tanti osservatori a guardare i nostri allievi, quindi non servono né il raduno né i richiami, vengono da soli, perché sanno che in ogni squadra ci sono vari talenti.